Una figura di riferimento per i ragazzi che come te sono cresciuti in questo ambito è quella di padre Lorenzo Zamperine. Qual è stato il primo incontro che hai avuto con padre Lorenzo? Beh, guarda, l'intervista la stiamo facendo proprio nel punto in cui padre Lorenzo si è presentato a noi che eravamo un gruppo di ragazzi nei 18 e i 20 anni, anzi alcuni erano molto più giovani e arriva questo frate Capucino da Genova, lui era a San Girolamo a quarto aveva una squadra di calcio, il San Girolamo in prima categoria, quindi partecipava alle vicende di questa squadra e mi ricordo che tra le prime cose che ci disse fu quella, ma ragazzi dai, cosa facciamo qua? Avete voglia di fare una squadra di calcio, una squadra di pallavolo oppure qualcos'altro? E questa sua apertura mi spinse a lanciargli l'idea della radio. Padre Lorenzo ha avuto sempre un'attenzione per il mondo della comunicazione soprattutto legata anche proprio al messaggio del Vangelo. Sì, da sempre, lui oltre a seguire le vicende di Radio Aldebaran, le vicende del Coro Antares ad essere insegnante della Scuola Infermieri di Chiavari ha sempre avuto un occhio di riguardo per le persone e per l'ascolto verso queste persone quindi questi suoi oltre 40 anni passati nel convento di Chiavari c'è stata una piccola parentese di Santa Margherita Ligure l'ha passata nell'ascolto delle persone a contribuire al loro cammino, al miglioramento del loro cammino o a confortarle. Che cosa ti lascia questa presenza nella tua vita? Padre Lorenzo è stata una costante anche proprio di questo luogo. Sì, una costante per noi ragazzi Padre Lorenzo ricordo che ha seguito comunque costantemente la radio continuerà a seguirla anche dal suo nuovo indirizzo spirituale che è quello di Genova San Barnaba un convento, il più antico convento dei Capuccini Liguria del XIII secolo sulle alture della zona di Castelletto continuare a seguirla lui ci ha lasciato questa impronta questa impronta di forte caratterizzazione morale cioè una linea da seguire di comportamento onesto che deve sempre caratterizzare chi fa comunicazione ma chi lavora in qualunque ambito della vita dell'economia, del sociale ecco questa è la sua dottrina principale direi il suo insegnamento principale grazie